Ciao ragazze, ciao ragazzi Allora, questa sera, questo pomeriggio rende video recensioni di alcuni prodotti o sia, diciamo, make-up, capelli, skin care proseguiamo con ordine il primo prodotto di cui voglio parlare è questo rossetto di Catrice della linea Ultimate Color è il numero 310 Red Is Lip è un rossetto rosso con Amelie che è entrato dal balcone è un rossetto rosso da 3.8 grammi l'apertura dura 36 mesi la confezione è molto elegante, molto bella nera con questa parte trasparente mi piace tantissimo e il bullet è fatto in questo modo è leggermente consumato e qui c'è anche la scrittina Catrice è un bellissimo color rosso è anche profumato col rosso freddo ma non eccessivamente freddo l'ho messo a confronto con il MAC Russian Red che notorialmente è un rosso molto freddo e questo di Catrice è leggermente più neutro come rosso ora vi faccio vedere anche la differenza allora questo è il rosso di Catrice veramente molto bello è anche quello che indosso oggi soltanto che oggi l'ho praticamente tamponato e sfumato leggermente e mi ha lasciato tutto questo colore quindi è un rosso bello è un rossetto molto intenso come dicevo mi piace troppo il suo profumo ora ve lo metto a confronto con il Russian Red che è più freddo ed è anche più matte il secondo quindi questo qua è il Russian Red come potete vedere è più freddo e più matte quello di Catrice è più un cream tendente al matte perché piano piano che si asciuga diventa veramente molto più matte sulle labbra quante volte ho detto matte lo so solo io comunque continuiamo a parlare del rossetto di Catrice quindi quando si asciuga diventa molto più matte ed ha una sensazione sulle labbra molto confortevole perché all'inizio è cremoso quindi non secca letteralmente le labbra ma comunque rimane molto più confortevole rispetto al MAC la durata è non lunga di più l'unica pecca è che migra leggermente se messo a pieno colore e ovviamente senza barriere di matite e altro però con ovviamente una matita o quella trasparente o con un contorno color carne o sempre rosso il rossetto rimane all'interno delle labbra anche a pieno colore e non va da nessuna parte e dura veramente tantissimo allora questo l'ho messo questa mattina alle 5 e mezza l'ho ritoccato ovviamente prima di fare il video ma ora sono le mezzogiorno e 20 io l'ho soltanto ovviamente leggermente fatto così sulle labbra e amalgamato però avevo ancora del colore potevo anche evitare sinceramente però dovevo fare il video quindi vi dovevo apparare mi stavo strozzando per dire questa stronzata comunque questo rossetto mi è piaciuto tantissimo l'unica pecca è la migrazione mi è piaciuto così tanto che è stato praticamente mia sorella forse durante... che cos'era? forse l'immacolata tornò a casa perché lei non vive più con noi e provo questo rossetto tanto che le è piaciuto che me lo voleva rubare perché le ho detto Paola non ti preoccupare te lo regalo non rubere e come per i prodotti di Essence ormai trovo difficoltà a trovarli in tonzi io normalmente le trovo da scarpe scarpe per trovare il rossetto a mia sorella dovevo girare due scarpe scarpe perché il primo ne aveva due ma entrambi palesemente utilizzati e l'altro ne aveva tre di cui due inguardabili io non apro mai rossetti però con Essence e Catrice sono obbligata due erano usati il terzo fortunatamente l'ultimo era quello che poi le ho regalato che era perfetto altrimenti non le potevo fare neanche il regalo di Natale comunque un pezzo del regalo di Natale comunque questo rossetto mi è piaciuto tantissimo secondo prodotto di cui vi voglio parlare è questo shampoo comprato dal parrucchiere della Paul Mitchell uno shampoo rinforza e restituisce da 300 ml in italiano per capelli più forti il Super Strong Complex aiuta a ricostruire e a proteggere donando lucentezza evitare il contatto con gli occhi va bene garantito solo se acquistato presso il salone professionale non è testato neanche sugli animali c'è il coniglietto che salta che zompa allora il prodotto ha la confezione da 300 ml era leggermente bagnato non so se si è visto lo schizzo comunque il prodotto è trasparente lo shampoo è trasparente ed è molto molto concentrato quindi bisogna diluirlo tantissimo io metto praticamente una piccola noce sulla mano lo metto sulla testa e faccio scorrere 20 secondi di acqua di modo tale che si diluisce e posso massaggiare una cosa che mi piace è che se il capello non è super sporco nel senso che l'ho lavato 4 giorni fa e quindi è ancora accettabile 3 giorni fa è ancora accettabile e basta una sola passata se invece ovviamente il capello è povera bestia sporco da troppo tempo oppure ho fatto allenamento quindi ovviamente il capello è assodato c'è bisogno di due passaggi però di norma con un solo passaggio si fa tutto non è eccessivamente sgrassante né per il cuoio capelluto né per i capelli io non ne capisco di inci però a volte mi domando io posso capire una maschera un balsamo che restituisce e ripare il capello mi sto facendo una chiavica ma un prodotto a risciacquo più di una maschera o più di un balsamo come può essere uno shampoo quanto può restituire? quanto può proteggere? questa domanda me la sono sempre posta e credo che non troverò mai risposta anche perché io sono più per prodotti tipo gli integratori per poter dall'interno aiutare a proteggere e a rinforzare l'esterno come vi ho sempre detto comunque questo shampoo per quanto riguarda pulizia facilità nel risciacquo eccetera mi piace tantissimo ha un prezzo perché l'ho pagato 20 euro mi dispiace fare il video in queste condizioni comunque quindi l'ho pagato abbastanza però 300 ml dovrei star bene per un bel poco io solo capire a quanto sono arrivata senza farmi una chiave allora sono arrivata più o meno qua e l'ho comprato ho iniziato a mettere in uso diciamo un paio di mesi fa sì un paio di mesi fa e faccio lo shampoo in media due tre volte a settimana più o meno poi dipende da caso a caso e non sempre però uso lo stesso tipo di shampoo però questo è lo shampoo che utilizzo di più in questo periodo mi sta piacendo però non è che ho visto tutta questa riparazione ristrutturazione sui miei capelli è un buono shampoo ok altro prodotto di cui voglio parlare è questo prodotto di equilibria è dell'allargan giovinezza naturale 98% di origine naturale un contorno occhi senza parabeni siliconi petrolati e peg oli minerali e paraffina testato dermatologicamente e oftologicamente con acido iaruronico allora è una delicata emulsione studiata per il trattamento del contorno occhi che si assorbe rapidamente senza appesantire l'olio di argan insieme allo speciale mix di componenti attivi naturali assicura protezione ed efficace azione liftante l'olio di argan levigante protettivo e anti-aging olio mandorle dolci elasticizzante oli di vinaccioli dermoprotettivo estratto di gardenia addolcente acido iaruronico ha i due pesi molecolari effetto lifting vitamina e antiossidante qualche altra cosa no dentro c'è anche il foglietto illustrativo ma spero e suppongo che illustri soltanto la gamma già non l'avevo proprio aperto si illustra solo la gamma ci sono le varie creme viso un olio d'argan puro mi sto facendo una schifezza e ci sono anche le salviette con tornocchi e l'acqua micellare buono con ovviamente gli stessi principi che vi ho letto per la crema la crema si presenta in questo barattolino da 15 ml ed è una crema biancastra ora ve la faccio vedere qui non so se si riesce a vedere questa è la crema è una crema molto leggera che permette di effettuare tutti i vari massaggini e l'assorbibilità se si può dire questa parola non è super veloce nel senso che mi permette di effettuare tutti i miei vari massaggi nel tempo da me previsto senza effettivamente appesantire la parte e quindi permette anche il trucco subito dopo averla stesa io di solito la crema contorno occhi la metto come primo step e poi vado a mettere la crema viso e dopo aver messo e vende anche il burro di cacao di solito mi vesto e per vestirci ci si mette poco e poi passo al trucco in questo diciamo due minuti tra tutti i passaggi e poi il trucco il mio occhio la mia palpebra è già bella tesa e non unta dalla crema e quindi di facile truccaggio diciamo così perché non devo aspettare altro e mi sta piacendo tantissimo sento il contorno occhi quando lo metto rilassato e idratato mi è capitato settimana l'altra sì avevo fatto la maschera quindi avevo scrabbato il viso e tutto il resto e non l'avevo idratata perché ho fatto beh tanto dopo devo uscire nel pomeriggio mi metto la crema quando devo uscire quel pomeriggio poi non sono scesa più e neanche poi la sera e quindi praticamente sono rimasta un'intera giornata senza idratare il viso e in particolar modo il contorno occhi e sentivo che mancava qualcosa quindi prima di andare a letto mi sono messo almeno il contorno occhi e ho sentito proprio gli occhi che facevo la pelle siete 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 perché dà veramente un potere idratante efficace non so se riuscite a vedere in questo momento io comunque ho 33 anni vado per i 34 e la mia zona contorno occhi perché l'ho sempre tenuta molto molto idratata non è segnata tantissimo è segnata sì comunque ho la mia età però non ho i solchi come vedo a parecchie miei coetane non ho le zampazze di gallina che fanno paura ho piccole rughe di espressione ma quando metto questa crema le vedo proprio rilassate non le sento marcate non le vedo marcate eppure lavoro al computer quindi lavoro in situazioni per gli occhi molto sotto stress poi finito il lavoro comunque continuo a stare a pc perché ho anche la mia passione youtube che mi sono costretta tra virgolette a stare a pc però non mi sento il contorno grinsato quindi mi sta piacendo tanto io continuo a preoccuparmi di farmi una chiavica allora un'altra crema questa è della botanica naturalmente una crema a piedi emolliente nutriente con biolio di mandorle dolci olio di riso e bioburro di karité allora una ricca emulsione formulata con ingredienti provenienti da agricoltura biologica ideale per donare ai piedi la giusta morbidezza e profumazione che è vero durante l'inverno che si tengono sempre i piedi tra calzini scappe chiuse eccetera la presenza di urea non so cosa sia dà le note proprietà idratanti emollienti e ammorbidenti favorisce l'esfolazione cutanea ed è utile soprattutto per ammorbidire e elasticizzare la pelle pelli estremamente aride inspessite e screpolate quindi poi c'è la glicerina vegetale è un omettante olio di mandorle dolci biologico olio di riso riso dà le proprietà emollienti burro di carité riempite 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 nutriente nutriente protettivo acqua attiva biologica di vite rosse mielitolo dà le proprietà tonificanti allora è da 100 ml ed ha un profumo molto delicato la crema non è pesantona pesantona mi sto facendo una schifizzissima non è una crema pesantona però si sente che c'è la glicerina vegetale che proprio al tatto di glicerina non si assorbe rapidissimamente ha bisogno di far effettuare diversi massaggi però alla fin fine dopo un minuto di massaggio o plantare si va comunque ad assorbire una cosa che mi piace è che effettivamente sento i miei talloni molto più chiedo scusami mi stava salendo un ruttino molto più idratati rispetto a quando metto una semplice crema corpo o una semplice crema mani perché a volte capita che non c'ho nulla la prima cosa che prendo sotto mani la metto da quando ho costanza di utilizzare questo la mia pedicure tra virgolette semiprofessionale fatta a casa quindi quando vado a eliminare le cellule morte mettere il pede in bagno e tutto il resto non la devo fare con tanta rapidità nel senso che prima la facevo ogni 15 giorni perché sentivo l'esigenza invece ora posso farla una volta al mese e nel frattempo comunque il mio piede non è del tutto rovinato comunque durante le docce un po' di pietra pomice al tallone la vado sempre a passare però mi aiuta a tenere il piede morbido per più tempo più lungo possibile l'ultimo prodotto di cui voglio parlare è ancora della botanica naturalmente è la crema mani fresh assorbimento rapido con bio olio di mandorle dolci proteine dello yogurt la texture leggera di questa crema mani consente una perfetta idratazione grazie all'olio di mandorle dolci che idrata il tessuto cutaneo e alle proteine dello yogurt che migliorano la funzione e barriera della pelle questo l'ho notato la pelle si mantiene elastica morbida e piacevolmente vellutata le proteine dello yogurt migliorano l'idratazione della pelle aiutando a mantenere integra la barriera cutanea l'olio di mandorle dolci olio eudermico dalle proprietà emollienti dal dolce dei nutrienti è da 100 ml è molto fresh veramente questa crema sto facendo una mano ho i rossetti dall'altra la crema sto facendo una schifizza comunque è molto non so se si nota rispetto a quella che ho messo prima è leggerissima è una crema molto leggera che si assorbe abbastanza rapidamente io mi devo andare solo a struccare abbastanza rapidamente e anche il contatto con la pelle lascia questo effetto rinfrescante quindi io suppongo che quest'estate sarà perfetta ora un pochino meno perché comunque esci con le mani fredde si congelano però una cosa che ho notato nelle settimane di freddo di dicembre mettevo la crema la mattina prima di uscire per andare al lavoro e non avevo quell'assenso di screpolatura bruttissimo che spesso e volentieri ho tra le nocche mi idratava molto bene mi proteggeva molto bene dal freddo io di solito la crema a mani la metto la sera prima di andare a dormire quando mi ricordo e se non mi ricordo almeno dopo la doccia dovrei tipo metterla più bella la lista tipo sono qua sono qua perché devo abituarmi è una di quelle creme che metto solo post doccia se mi ricordo cerco di metterla durante gli altri step della giornata però è molto raro però visto che fanno bene dovrei metterla tipo veramente esposta ciccia sono qua ok sto esagerando si vede che mi sono svegliate alle 5 torno da 4 ore di lavoro e c'è sopracciglio tremolante ok questo video recensione è finito spero che queste recensioni vi siano state utili io nel frattempo volevo far vedere soltanto il rossetto di Catrice come si è più opacizzato in questi minuti e sta diventando opaco più o meno mac è comunque più opaco rispetto a questo di mac non so se si vede si opacizza e si tiene tantissimo ora per struccare questa mano l'olio di ricino ok io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba